quando nacque quando nacque la medianità organizzata commento la medianità organizzata nacque due secoli fa nell'america del nord e si espresse con fenomeni elementari ed insoliti come il movimento e il sollevamento di tavoli di sedie e altri mobili colpi strepiti sparizioni e spostamenti di alcuni oggetti e apparizioni di altri senza cause conosciute che potessero produrli nel luogo in cui avvennero questi fatti la dottrina fu battezzata spiritualismo mentre in europa fu chiamata spiritismo per differenziarla dalla corrente filosofica omonima ufficialmente sono i picchi di hydesville del 1847 che aprono l'era moderna del contatto con i piani di esistenza superiore hydesville è il nome di un villaggio dello stato di new york dove nel 1843 abitava con la moglie un certo bell un giorno charles rosma un merciaio ambulante passando presso la casa solitaria dei bell chiese alloggio e l'indomani data all'assenza momentanea della signora bell suo marito e l'ospite rimasero soli da quel momento il merciaio scomparve nel 1847 lasciata dai bell l'abitazione fu affittata da due coniugi che dopo pochi mesi sloggiarono turbati da colpi fragorosi che ogni notte parevano provenire dalle pareti la casa ebbe nuovi ospiti i coniugi fox con due delle loro figlie margaret di 15 anni e kate di 12 i colpi ripresero e vi furono altri fenomeni in particolare il rumore di una lotta accanita con urli rantoli e la sensazione di un corpo trascinato per le scale della cantina kate fox intuì che i colpi dati alle pareti fossero dovuti a un'intelligenza invisibile e dopo aver dato lei stessa alcuni colpi al muro con la mano chiese una risposta simile il che avvenne l'entità di charles rosma o più probabilmente un suo guscio astrale comunicò in tiptologia che era stato assassinato anni prima da bell che lo aveva derubato e sepolto in cantina e seguiti gli scavi furono trovati capelli e ossa umane nel 1904 57 anni dopo nella stessa cantina frano un muro che mise in evidenza uno scheletro e una cassetta da merciaio ambulante attenzione perché medianità organizzata visto che la medianità è sempre esistita nella storia dell'uomo perché grazie all'evoluzione raggiunta dall'umanità quasi due secoli fa la medianità iniziò ad essere osservata e studiata e non più soltanto subita in quanto non compresa dall'uomo